La droga scuola, nascosta nei posti più impensati, sopra lo sciacquone di un bagno e a terra nel parcheggio dei motorini, è stato grazie all'intervento delle unità cinofile e di Barry e Ivan, un pastore tedesco e un labrador, che i carabinieri ieri mattina hanno individuato e sequestrato diverse dosi di hashish e marijuana in due istituti superiori di Vittoria e Comiso. Nei prossimi giorni, fanno sapere dal comando dell'arma, sono previsti ulteriori controlli negli istituti scolastici della giurisdizione. E sempre ieri, nel corso di altre perquisizioni effettuate con l'ausilio di unità cinofile specializzate, i militari hanno rinvenuto ad Acate all'interno dell'abitazione di un agricoltore, incontrata a Dirillo Macconi, quattro fucile antichi e avancarica funzionanti e in un ottimo stato di conservazione, nonché 240 grammi di polvere da sparo, senza averne denunciato la detenzione alla locale stazione dei carabinieri. Il miniarsenale è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione della locale autorità giudiziaria, davanti alla quale il responsabile dovrà rispondere del reato di detenzione illegale di armi antiche.